L'Istituto Superiore Statale Da Vinci De Giorgio di Lanciano è la prima scuola in Italia a dotarsi di una biblioteca online. L'innovazione digitale è entrata in funzione pochi giorni fa. Studenti e professori, ma anche utenti esterni all'istituto, potranno ricevere in prestito sui loro PC, laptops, iPhone, tablet, i testi che sceglieranno tramite un account personale concordato con l'addetto al servizio. Il prestito ha una durata bisettimanale. Scompare dunque il vecchio sistema dell'aula biblioteca, già semiabbandonato per mancanza di risorse ed insegnanti a disposizione. E nasce quello virtuale, leggero e a costi risori, che non ha bisogno di personale a disposizione, né inventari da aggiornare o volumi da restaurare e innovare. Basta un clic e il libro richiesto appare sull'ebook dal ciberspazio, dove era sospeso dentro un cloud, cioè una nuvola, che riesce a contenere un catalogo incalcolabile di libri. Presi del Gianno Orecchioni, qui il futuro è già di casa, decisamente anticipati i tempi. Oggi i ragazzi leggono e utilizzano anche altri strumenti, che non solo il libro tradizionale. Per cui senza andare contro il libro, la carta stampata, l'editoria tradizionale, pensiamo che invece sia molto utile sfruttare altri canali. E questi canali, tra l'altro, sono molto funzionali, perché hanno il requisito della velocità, della flessibilità, ci mettono in condizioni di poter far rivivere la biblioteca scolastica, che da anni è quasi morta, perché ormai c'è sempre meno spazio nelle scuole, ci sono sempre meno fondi e non c'è il personale disponibile per fare il servizio al bibliotecario. E' naturalmente un lavoro complesso, si tratta di acquistare libri, catalogarli, mettere negli scaffali, organizzare il prestito secondo degli orari prefissati, poi controllare che il libro rientri, rimetterlo in ordine, quando i libri si perdono, andare a cercare, insomma, tutto un lavoro enorme che adesso non esiste più, perché si fa tutto in automatico, con un click.